Indra e Solo Kite, al termine Italia-Tailandia, il tuo commento? Sì, mi dispiace per il risultato per un 3-0, perché comunque abbiamo fatto un gran bel percorso in questo Grand Prix, anche se siamo comunque qualificati alla Final Six, però era un'opportunità anche far riposare alcune giocatrici, insomma, giocare, parlo anche di me a livello personale, e mi dispiace di non aver portato un risultato positivo a casa, però loro hanno giocato molto bene, hanno battuto molto forte, è andata un po' pezzo la ricezione, magari potevamo mettere sotto pressione, dovevamo mettere un po' di più sotto pressione con la nostra battuta, perché loro fanno comunque un gioco veloce e abbiamo fatto fatica, quindi a muro, però è una squadra asiatica, giocano veloce, giocano con gli schemi e noi non siamo abituati, peccato, però il risultato, alla fine penso che ci siamo meritati nella Final Six, è stato un bel percorso e adesso pensiamo a riposarci un pochino e poi ci vediamo nel Final Six. C'è l'amarezza per il KO, però è stata una grande cavalcata quella dell'Italia. Sì, se il KO è un 3-0, chiamiamolo così, però comunque loro hanno giocato molto bene, sinceramente quello che mi dispiace, avevo perso un po' la sensazione in campo, perché comunque non giocavo da un po', poi magari mi dispiace più che altro a livello personale, perché potevo sicuramente dare di più, però voglio guardare un po' il tutto, siamo da tanto tempo che siamo fuori casa, comunque andiamo alle finali, è quello che conta.